Ciao raga, bentrovati in questo nuovo video, ormai siamo agli sgoccioli, FIFA 21 sta per arrivare, mercoledì, primo assaggio con la web app dove potremo andare a riscattare i rewards per chi ha giocato a FIFA 20, quindi qualche pacchettino dal quale sperare di trovare qualcosa. Giovedì invece, finalmente sarà tempo di fare sul serio con l'IA Play e quindi la possibilità di provare il gioco in anteprima per 10 ore. E proprio per questo motivo, anche in seguito al rilascio del database con i migliori mille giocatori e quelle che sono i loro valori di stelle skill, piede debole eccetera eccetera, oggi ho intenzione di portarvi due squad builder diciamo abbastanza cheap, quindi un po' per tutte le tasche per poter buildare una squadretta che comunque a inizio gioco possa permettervi di esprimervi al meglio. Quindi con un rapidissimo e pulitissimo cambio di scena passiamo sulla schermata di Footbeam. Vedete che qui ho già messo un modulo classico che abbiamo tutti quanti imparato a conoscere, che è il 451, un modulo che vi permette alla grande di bridare, anche se comunque per questa prima squadra è solamente per cercare di risparmiare quanto più è possibile su quelli che sono i vari cambi ruolo. E ragazzi, la squadra che sto per farvi vedere io credo che sarà una squadra incubo, incubo soprattutto nelle prime settimane, prima VL, raga, è proprio quella squadra lì, la Bundesliga competitiva. Già, quest'anno infatti la Bundesliga ha un sacco, ma proprio un sacco di carte interessanti, quindi andiamo immediatamente a buildare questa prima squadretta e apporta il Baggatone per eccellenza, uno che per tanti anni è stato utilizzato ed è proprio Farman, quindi 77 di overhaul, comunque il portiere che fa il suo e che come prezzo probabilmente non andrà a superare i 1000 e qualcosina, quindi siamo molto 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 contenuti. Per quanto riguarda la linea difensiva, andiamo a buildare una linea difensiva che in Bundesliga ci permette di essere veramente solidi in ogni reparto. Infatti, a partire dal terzino sinistro, dove è possibile andare a inserire Roussillon, un giocatore molto completo, sia in fase di velocità che difesa, fisico, anche dei discreti passaggi per inizio game, quindi Roussillon sicuramente è un'ottima scelta, poi è anche francese, quindi magari potrebbe anche darvi la possibilità di fare delle ibride. Per i più coraggiosi e anche per quelli un po' più dotati di crediti a inizio game, ci sarebbe anche la possibilità di poter inserire il buon Alfonso Davis, che alla fine è come una specie di Mendy della Bundesliga, che però, discorso ibridabilità, sicuramente va un po' a perdere, però bel trattorino. Passiamo alla coppia di centrali. Coppia di centrali che è tanta tanta roba. Io ho scelto di utilizzare come primo difensore il buon Akanji, del Borussia Dortmund, che abbiamo già visto anche quest'anno a inizio game come bello buggato. Potreste anche andare a utilizzare il buon Upamecano, che anche si difende alla grande, al posto di Akanji, anche se comunque, bene o male, siamo lì, stiamo parlando di due trattori che mandano al bar tutti gli avversari che provano ad avvicinarsi alla vostra area di rigore. Mentre come secondo difensore centrale, un giocatore che quando l'ho visto ho detto a U. Raga, Klosterman. Che io, boh, Klosterman, raga. Meglio conosciuto come il Varane della Bundesliga, anzi più veloce di Varane, 84 di velocità per il buon Klosterman. E io ti dico, boh, perché fondamentalmente difensori del genere quest'anno, raga, secondo me costicchieranno, ovvero l'80, ma 84 di velocità e tanta roba. È uno dei difensori in base, diciamo, quindi non IF, non versione speciali, con la velocità più alta, se non il più veloce. Quindi tanta roba il buon Klosterman, che poi vede alla sua destra il buon Babu a chiudere quello che è un reparto difensivo di tutto rispetto. E che secondo me, con un 10, massimo 15k, potreste andarvi a portare a casa, anche se tutto dipenderà dal prezzo di Klosterman, ma comunque, tolto Klosterman, qui poi, siamo comunque in un regime, io parlo Xbox, perché faccio riferimento Xbox, ma anche su Play, comunque secondo me non supera i 30k questa difesa, 30, proprio esagerando 40. Quindi direi che il prezzo è abbastanza contenuto. Se proprio poi volete andare ad abbassare, potete anche andare a togliere Babu, e mettete come terzino Mukiele, che quest'anno l'hanno fatto terzino, invece che difensore centrale, dico boh, però. Tanta roba. Passando alla linea mediana, anche qui, raga. Ma due hidden gem pazzesche. Ma che ve lo dico a fare Zaccaria. Anche detto, cantè dei poveri. Raga, 83 di velocità, 81 diviso 85, fisico 75 di passaggio. Da dove è uscito Zaccaria? Santo cielo. Vi ricorderete magari il mutaforma l'anno scorso, ma su Zaccaria è incredibile. Voi mettete questo qua, e insieme a lui ci mettete un altro, che voi dico boh. Limer. Detto anche il gulit dei poveri. 85 di velocità, 80 difesa, 77 fisico, 78 passaggio, 78 dribbling. Fate una mediana Zaccaria Limer, è come avere la diga di Aswan. Santo cielo. Due giocatori, secondo me, pazzeschi, e che per me dureranno parecchio. Dureranno parecchio, vedremo tanto. E che proprio grazie alla loro presenza lanciano la Bundesliga, secondo me, molto in alto in quello che sono le diverse squadre che si possono andare a buildare a inizio game. E sebbene la fase difensiva e di mediana in Bundesliga veda tanti bei giocatori, per quanto riguarda la zona offensiva abbiamo un po' più di carenza, anche se comunque abbiamo dei buoni giocatori con i quali possiamo andare appunto a creare le nostre squadrette iniziali. A destra abbiamo il sempreverde Bellarabbi, che per fare ruoli esterni, direi, lo fa alla grande, visto che è veloce. Riesce anche a concludere, secondo me, discretamente. Peccato per il piede debole, ma nella vita non si può avere tutto. Però, vi ripeto, per metterlo là a piottare in velocità, per me, c'è sta. Abbiamo poi, a sinistra, il buon Kingsley Coman, il giocatore che ha vinto più trofei da giovane in assoluto, praticamente. Questo doveva vince, a caso. E anche lui, per piottare in velocità tanta roba, è anche 4-4, quindi sicuramente un po' più completo rispetto a Bellarabbi. Quindi Kingsley Coman, veramente un'ottima freccia nel vostro arco. E andiamo poi a concludere la squadra con due hidden gem. La prima è il buon Rashica, 4-4, 79 di overhaul, 88 velocità, 79 tiro, 83 dribbling. Quindi, direi, rapporto qualità-prezzo in prospettiva, secondo me, veramente, veramente ottimo. E poi, ultimo tassello di questa Bundesliga competitiva che tanto ci farà soffrire, è Embolo. Embolo, anche qui, 78 di overhaul, rapporto qualità-prezzo, secondo me, che sarà abbastanza soddisfacente. In questa squadretta, voi potete andare a utilizzare sia il 4-2-3-1, andando a utilizzare magari Rashica Punta, Coman C-O-C, Embolo e Bellarabbi Larghi. E sia il 4-4-2, con Embolo e Bellarabbi Larghi e Coman e Rashica Centrali, punte centrali, visto che hanno 4-4 e magari vi danno un po' più di garanzia rispetto a Embolo e Bellarabbi, che hanno 3 piede debole e, di conseguenza, sono meglio sulla fascia e lontani dalla porta, dalla zona di finalizzazione. Per una squadretta iniziale di questo tipo, che secondo me esaggira su 2-300k, che voglio dire, raga, 2-300k ce li facciamo tutti. Tra un po' di compravendita su webapp, un po' di squad battles, un po' di robe delle rivals, nelle quali magari prendete crediti. Insomma, questa squadretta qui, secondo me, la si riesce a fare in scioltezza. Andando avanti, l'ultima squadretta che vi voglio andare a proporre, invece, è una ibrida. Quindi andiamo rapidamente, anzi, facciamo così, a svuotare questa squadretta qua e andiamo a mettere, invece, come modulo di partenza, un agile 4-4-2, quello lì proprio base, che tanto piace a me, eccolo qua. E partiamo dalla porta, nella quale abbiamo il buon Alfonso Areola, del Fulham. Sapete che è andato al Fulham, quindi vi permette di poter aprire un sacco di sbocchi interessanti in ottica di ibridabilità. E in questo caso, per quanto riguarda la linea difensiva, ho deciso di puntare sempre sulla difesa della Bundesliga, perché ci sono tanti giocatori interessanti che, secondo me, avranno dei costi abbastanza contenuti. Quindi andrei a ripiazzare sempre qui il buon Roussillon, fa invece il suo ingresso, in questo video, il buon Konatè, che ha anche lui, bel trattorino da mettere là, che prende tutti quanti a capocciate nei denti, ci sta tutto. E poi ci andiamo a piazzare il buon Upamecano, che quindi stavolta è titolare, e a completare la difesa andiamo a mettere il buon Mukhele. Beh, potete vedere come sono tutti i giocatori, questi, della stessa squadra, che, francesi, tutti i difensori, chissà che hanno avuto da mangiare da piccolini, comunque, veramente tosti, tosti, tosti. Per quanto riguarda poi il reparto, invece, un po' più avanzato, visto che, come avevo detto, quello della Bundesliga, bene sì, ma poteva essere un po' meglio, andiamo, invece, su un campionato che sicuramente conosciamo tutti, che è la Premier League. E se vi dico Premier League e clicco sul centrocampo, chi meglio di Sissoko per interpretare il ruolo della mediana a inizio game, ragazzi miei? Sissoko tanta, tanta roba, anche quest'anno, vedete, 78 velocità, 89 fisico, 77 passaggio, 77 difese, 78 dribbling, destinato a diventare un mini Vieira, un Vieira con la carta gialla fino al periodo dei tosti, praticamente. A completare il reparto, invece, della mediana, il buon Gbamin, al quale si potrebbe anche andare a sostituire il buon Allan. Gbamin, che è tanta roba, Allan, anche lui, tanta roba, anche se potrebbe magari costare un po' in più a causa dell'overall, a causa comunque delle statistiche migliori per quanto riguarda dribbling, difesa fisico, eccetera, anche se Gbamin è più veloce, oltre a essere, credo, anche un pochino pelo più alto. Quindi abbiamo qui un ottimo centrocampo che può fare sia 4-2-3-1 che 4-4-2, una bella diga in mezzo al campo, con Sissoko e Gbamin. Per quanto riguarda poi le frecce esterne, la prima è Felipe Anderson, un giocatore devastante, 4-4, 89 velocità, 75 tiro, 86 dribbling, tanta roba il buon Felipe Anderson, che, insomma, non è assolutamente una novità. Ma, così come non è una novità lì a destra, il buon Lucas, 4-4 anche lui, super veloce, può anche concludere, agile, quindi tanta roba, anche quando magari si ritrova davanti la porta, anche se l'anno scorso un po' di golletti se li cagava. E a completare il reparto, altri due brasileri per ballare un po' di capoeira, far ballare un po' la capoeira ai nostri avversari, ci andiamo a piazzare Gabriel Jesus, un Evergreen che non muore mai, nonostante il tre piede debole, però una carta questa che rimane sempre molto interessante, magari potreste anche pensare di spostare sull'esterno e mettere Felipe Anderson centrale o Lucas, se volete avere uno con quattro i piedi debole davanti. Mentre l'ultimo tassello di questo team è il buon Richarlison, che abbiamo imparato a conoscere nelle sue versioni Tots, eccetera eccetera, su FIFA 20, Richarlison, tanta roba, vedete che c'è una bella e corposa presenza di giocatori brasiliani, così come di francesi, quindi anche questa squadretta qui, secondo me, ma con due 300k ve la portate tranquillamente a casa e secondo me con questa vi potete anche presentare, così come con la precedente, nella prima Weekend League e poter puntare comunque a un buon risultato, visto che i giocatorini sono messi tutti quanti al loro posto giusto e secondo me i margini per far bene ci sono tutti. Quindi, ritornando invece sul mio faccione, se sia bello o brutto ve lo decidete voi, per questo video è tutto, quindi queste due squadrette io ve le lascio qui, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se nel caso volete poi qualche squadretta invece un po' più alta di fascia, che già ce le ho pronte, aspetto solo un vostro feedback, a me non resta che salutarvi, vi auguro una buona giornata, mi trovate ogni giorno su Twitch e qui solitamente un video ogni giorni, quindi un salutone, peace!